Sono dieci anni che tutte le mattine ci ritroviamo puntuali, alle 7.30, prima era le 7.45, nella collocazione oraria di qualche mese fa, oggi abbiamo anticipato alle 7.30 l'appuntamento con la lettura dei giornali, un appuntamento che si rinnova da dieci anni, era il 2005 quando iniziamo la nostra rassegna stampa con la lettura dei quotidiani. Certo non c'era la tecnologia come oggi, non c'era il test screen, c'era la carta, c'era il giornale, ma siamo sempre qua. Ed è un piacere ritrovarvi tutte le mattine, fedelissimi, per questo appuntamento, magari davanti a un caffè, prima di cominciare la giornata lavorativa, oppure come in questo periodo, prima di iniziare semplicemente una giornata di riposo. Salutiamo anche i turisti che sono qua con noi. Allora, Fano TV, canale 17, subito le previsioni del tempo, anzi no, prima abbiamo il calendario, vediamo il santo del giorno. Oggi festeggiamo Santa Giovanna Francesca de Chantal, che è stata una religiosa, il sole è sorto alle 6.08, tramonterà alle 20.18. Vediamo il tempo, dicevo la fotografia di oggi, dopo le nuvole di ieri e l'altro ieri, oggi il cielo è terzo, sereno, con temperature che tornano ad essere elevate, anche se a quest'ora, rispetto ai giorni scorsi, quando erano 26-27 gradi, siamo a 20 gradi, una temperatura assolutamente confortevole, ma temperatura destinata a salire. Vediamo allora per oggi il tempo, cielo sereno poco nuvoloso, con temperature in aumento, eventi deboli, per domani, 13 agosto, cielo sereno poco nuvoloso, con temperature ancora in aumento, poi venerdì 14, cielo sereno poco nuvoloso in mattinata, con addensamenti più consistenti, che sono previsti a partire dal pomeriggio, le temperature in aumento, eventi deboli dei quadranti meridionali, il mare sarà poco mosso. La tendenza, la tendenza per i prossimi giorni, tempo instabile sulle Marche, almeno fino alla giornata di lunedì, con temperature in diminuzione. La pagina di Fano del resto del Carlino. Dopo la notizia di ieri, che riguardava un tredicenne, un giovanissimo, finito in coma etilico e portato al pronto soccorso, oggi il giornale intervista Giovanni Mazzoli, che è il responsabile del CERT di Fano, che lancia l'allarme del consumo di alcol tra i minori e dice, e si rivolge ai genitori, salvate i vostri bambini, non è utile bere bevande alcoliche durante i pasti. Per Giovanni Mazzoli, appunto, presidente del CERT, bisogna educare i nostri figli, dice, ad un consumo consapevole. Se sbagliano, non drammatizzate. Chiesa gremita ieri per l'abbraccio a Corrado Tallevi, funerale che si è tenuto al porto, mentre sulla pagina 9 di Fano del resto del Carlino si parla del successo, con numeri da record per la manifestazione di In Gir per Fano. 2000 persone, 800 biglietti staccati per il museo, 300 i volontari impiegati. consumati 1000 litri di vino e 1200 chili di cibo, visite a scavi e pinacoteca. Sotto Fano, città dei segni esoterici, una mostra per capire il perché. Inaugurazione questa sera alle 21.15 all'ex chiese di San Michele fino al 27 di agosto. Andiamo a Durmino, invece, dove c'è e dove sta per partire una delle manifestazioni sicuramente più belle della nostra provincia. C'è il Duca, la festa del Duca, il Duca rinnova il guardaroba, infatti il Duca Federico rinnova il suo guardaroba per la 34esima festa del Duca e quindi sfoggerà un abito nuovo di zecca ispirato al ritratto di Piero della Francesca. Parla Flavio di Paoli, il vecchio costume dice aveva 25 anni, questo è ispirato, appunto, come dicevamo, da Piero della Francesca. Ecco, allora, Flavio di Paoli tra i costumi della festa del Duca per confezionare il nuovo abito, Lars ha lavorato dallo scorso ottobre. Igli, l'omicidio di Ismaele e quindi Sant'Angelo invado. Igli si fece dare da un amico il coltello usato per uccidere Ismaele, il ragazzo è stato sentito a verbale nei giorni scorsi dai carabinieri, come quando l'ha preso, la risposta a questi due interrogativi farà decidere sulla premeditazione. Ecco gli stipendi dei sindacalisti dopo il caso, quello più eclatante, dei dirigenti nazionali. Pubblicati dopo le polemiche per le superindenità alla Cisla di Roma, Sauro Rossi noi ci comportiamo, dice, diversamente, nessun cumulo. Anche la CGL ha pubblicato gli stipendi dei dirigenti, a Ghiselli 40 mila euro lordi. Lo sport, dal resto del Cardino al Mancini di Fano, allo stadio, riecco una classica, una classica amichevole contro l'Ancona, i Granate incrociano infatti l'Ancona. Domani attesa amichevole, Mascalaito, Garlini, Zandegu e Boom Mocchi, così veniva chiamato Mocchi. Quanti giocatori in comune, insomma, davvero la storia dell'Anna. A proposito, apro una parentesi, a proposito di storia, a proposito di ricordi, questa sera, subito dopo il nostro telegiornale, un appuntamento importante, soprattutto per i tifosi storici dell'Alma Juventus Fano, della squadra del Fano. Questa sera trasmetteremo Viaggio nella nostra memoria, un documento dello studio fotografico del Bianco, che ha raccolto le immagini più belle dell'Alma Juventus Fano, le trasferte. Rivedremo e rivedrete personaggi, volti, storici, non solo tra i giocatori, ma anche tra i tifosi, tra coloro che seguivano con tanta passione la squadra, la prima squadra, la squadra di calcio della città. Appuntamento questa sera alle 21 circa, comunque subito dopo il nostro telegiornale. Il Corriere Adriatico, la pagina di Pesaro, Via dei Sapori, la fiera come l'Expo. Quattro giorni di Kermesse per la fiera di San Nicola 2015, in un'area di 13 mila metri quadrati, con le offerte di 500 ambulanti. Cambia rispetto alla scorsa edizione la collocazione della zona spettacoli che sarà in Viale Zara. La manifestazione costerà 40 mila euro. Poi dalla pagina di Pesaro e Provincia invece la storia di questo cantianese amico di Giovanni Paolo II, il cantianese è Adriano Gentilotti, che ha inaugurato in Lussemburgo il più grande monumento dedicato al pontefice, a Giovanni Paolo II. L'evento è avvenuto appunto per volontà di Adriano Gentilotti, che è cantianese doc, con una lunga storia di amicizia e devozione per il Papa Polacco. La pagina di Fano invece, Ladri nella villa, nella villa del console onorario. I malviventi hanno commesso un furto mentre Luciano Rappa e sua moglie dormivano. Potrebbero essere stati narcotizzati. Sono stati rubati mille euro, un migliaio di sterline, cellulari di ultima generazione e i gioielli della consorte. Sotto, multa velox fuori uso. Quello nuovo non è ancora in dotazione ai vigili. Il comandante dei vigili di Fano, Giorgio Fuligno, dice in funzione solo la videocamera alla stazione, nessuna volontà di fare cassa. Fano multe per 900 mila euro, mentre Pesaro ne ha in bilancio 5 milioni e 400 mila. Società aereo portuale, terzo bilancio in rosso nei conti del 2014, un buco di 119 mila euro. A Mondavio invece esplode il rinascimento alla Rocca. Da oggi a Ferragosto i fasti della caccia al cinghiale, 100 fortunati al banchetto nuziale. I fantasmi di Igli vorrei cancellare tutto. L'assassino di Ismaele si sfoga con il suo legale e ribadisce che la sua intenzione era quella di spaventare il ragazzo. Un amico di Urbino gli avrebbe rivelato il flirt tra la fidanzatina e il 17enne di Sant'Angelo Invado. E lui dice e ribadisce, ancora una volta, avevo solo intenzione di spaventarlo, non volevo ucciderlo, avrei preferito che quella cosa fosse successa a me, peccato che quella cosa sono le due coltellate alla gola inferte a Ismaele Lulli. Il 17enne di Sant'Angelo Invado, vittima della cieca gelosia di Iglimetta, che fino a fatto invece Ambera o Ambra, Ambra è in Macedonia, non è indagata, ma non tornerà più in Italia. Da Senigallia, tutto un mondo paese, verrebbe da dire, ma guardate il titolo, salvate mio figlio dall'incubo dell'alcol, l'appello ai vigili di una madre disperata, aiutatemi, io non ci riesco, è il secondo caso in pochi giorni. Il sindaco dice in prima linea nella lotta allo sballo abbiamo bisogno dei genitori al nostro fianco. È una giovane madre, quella che si è rivolta alla Polizia Municipale di Senigallia, la seconda in pochi giorni. Non so dove, quando esce, non rispetta ma gli orari, ha paura che beva e che si droghi, ha raccontato ai vigili della donna, disperata, ha un figlio sedicenne, taciturno, che con la famiglia non si confida, non parla, non mi sta ad ascoltare e con tutto quello che accade sono davvero molto preoccupata. 16 anni, 16 anni è un'età difficile, unità delicata, in cui non si è né piccoli né adulti, si è lì, bisogna stare di vicino, comunque sia, anche se non parlano. Pestato a sangue, guardate, un'altra storia che assomiglia a quella che vi abbiamo raccontato ieri nel nostro telegiornale e che ha raccontato ieri il resto del Carlino. Pestato a sangue per 3 euro il titolare di un bar, Monte Marciano, vittima della furia di un avventore Gianni Gagliardini del Caffè Time, la scena ripresa da una telecamera interna. L'uomo è intervenuto quando la barista è stata insultata per una grappa, aveva già subito 14 furti. Apriamo adesso invece il messaggero. Il messaggero, la pagina di Pesaro, racconta di Giorgia, ci informa di Giorgia che è in volo con la sua famiglia e che oggi sarà a Pesaro. La giovane Rastelletti ha lasciato l'ospedale australiano, lo zio sta meglio, dice e sta reagendo alla morte della sorella. Venerdì pomeriggio l'addio a Gloria invece che sarà tumulata accanto al nonno, a sua volta vittima di un incidente. La truffa dello specchietto si evolve con il pedone che finge di essere urtato. Allora, queste truffe che in questi giorni evidentemente stanno andando molto, ricorderete che sono stati già mandati via, presi, arrestati a Pesaro padre e figlio di origini siciliane, poi la coppia di 35 anni neppolitani denunciati a Fano. e adesso c'è anche questa variazione sul tema e cioè una truffa similare, ve la dico velocemente così magari può esservi utile. Allora, solitamente si passa in una strada stretta, a lato c'è un pedone, quindi una persona a piedi, sentite un botto nella macchina, in realtà è questo pedone che ha sferrato un pugno sul tettuccio della vostra automobile, voi ovviamente non lo vedete, vi corre dietro, voi certamente vi fermate e lui vi dice che con lo specchietto gli avete lussato la spalla addirittura, quindi se la massaggia fortemente, fa proprio il gesto di massaggiare la spalla, arriva lì dolorante, fa tutta la sceneggiata, no, mi avete fatto male, tutta questa roba qua. Sotto la camicia si pizzicotta addirittura, quindi si dà dei pizzicotti per farsi diventare la pelle rossa, pure masochista, bastava un po' di rossetto, un po' di, ma nemmeno, insomma un po' di colore. La pelle rossa che vi mostra per chiedere i danni c'è 200 euro per farla finita lì e non chiamare i vigili. Ecco, questa è la variazione sul tema, quindi anche qui se vi ferma qualcuno questa storia dello specchietto che gli avete russato la spalla, il ginocchio, no, la spalla, il braccio o giù di lì, ecco, non credeteci e non date soldi. Caccia le candele, questa sera a Pesero c'è un'attesa spasmodica per queste candele in mare, una notte evento, il kit del comune non basta e tra i bagnine è scattata la corsa a farne incetta, c'è chi ne ha comprate oltre 200. Tutto il litorale stasera sarà coinvolto nell'iniziativa, 65 stabilimenti da Baia a Flaminia fino a Sottomonte. Il quartiere della Baia resterà al buio per andare a caccia invece di stelle cadenti. L'appuntamento per l'osservazione del cielo sarà anche alle 5 torri, tra l'iniziativa e pure il carnevale d'estate. La città del Duca rinasce in estate per i tre giorni di festa a Ferragosto, attesi 70.000 visitatori, ma l'assessore Crespini spera 100.000 grazie alla pubblicità. Pubblicità che tra l'altro per la prima volta, e questo mi fa davvero molto piacere, gli organizzatori della festa del Duca hanno deciso di fare anche sulla nostra emittente, quindi è un modo anche per richiamare tutte le persone che seguono la nostra emittente dalla riviera Adriate, quindi da Pesaro fino a Ancona, tutta la vallata del Metauro, di portare tutta questa gente appunto nella città del Duca. E noi ci stiamo organizzando appunto anche per farvi vedere come avverrà, cosa succederà in questi tre giorni di festa, in particolare nella giornata di venerdì quando verrà inaugurata la festa del Duca. Chiudiamo con la pagina di Fano, aggressioni e alcolici, Lido sotto assedio, il sindaco Massimo Seri difende il quartiere, ingiusto paragonarlo al Bronx, ovviamente il Bronx è un'altra storia, un'altra cosa, però insomma per far capire i carabinieri hanno identificato l'assalitore, denunciato per lesioni aggravate. Poi sopra, dal 13enne che invece è finito in coma etilico, fino al giovane preso a pugni, il sabato nero del regno della Movida. Nuova acqua invece nel canale Albani, ferma la moria dei pesci, i pesci morti sono stati tolti dal canale Albani, erano concentrati nel tratto vicino all'impianto di tiro a volo, l'intervento è stato effettuato dal personale di Enel Green Power, la società proprietaria del corso d'acqua che nella giornata di ieri ha disposto un sopralluogo insieme ad alcuni tecnici della regione, è un rimedio per evitare ulteriori morie, è stato fornito dalle piogge nella zona appenninica. Poi chiuso per ferie il centro mobile e sotto, disertato dai carristi, il bando del carnevale. All'edizione 2016 della sfilata non ci sarà nessun nuovo allestimento allegorico. Questa è la notizia pubblicata sul messaggero, la pagina di Fano. Io mi fermo qui, vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona giornata, vi ricordo il nostro sito internet occhialanotizia.it per essere sempre aggiornati in tempo reale, vi ricordo anche le vostre segnalazioni che sono per noi fondamentali al 338 4968 250 anche con WhatsApp e stasera alle 20.30 il Tg Occhio alla Notizia. Serena giornata a tutti voi, arrivederci. a tutti.